sono stati mesi difficili, lontani dagli spogliatoi, lontani dai compagni, lontani da un campo da calcio, lontani dalla unica e vera passione, quella del pallone, ma ora apriamo gli occhi, l'incubo è finito, è partita, l'eccellenza è tornata, il primo pallone è toccato dal Guspini attenzione sulla barriera del tiro, però poi c'è l'occasione per Diangelo, ancora ribattuto, fallo in fallo laterale, invece è Currini del Guspini, allora può provare, il numero 14, prova, oh mamma mia, grande parata di Secchi, ora si sveglia un po' il match, lo sveglia ancora il numero 14, Caddeo troppo fatta, chiama lo schema incredibile, mamma mia lo schema, non ho trovato, ma non è riuscito a finalizzare poi, mi importa, fantasia il partito, lo provano addirittura da lì, Secchi in due tempi, il pallone non fortissimo, Secchi non ha avuto problemi a boccarla Giangelo, grande movimento poi di Carboni, non può puntare Carboni, grande numero, Carboni, doppio passo, Carboni in area di rigore, Carboni, attenzione, poi c'è il gole del Bosa con Pinna, la sblocca lui, Pinna, Giovanni Pinna, 1-0 Bosa, e questa volta si sblocca il match, è proprio lui un gol, un gol grande giocata di Carboni che è tratto in aria attenzione, poi il gol straordinario di Curreli, un gol straordinario, l'ha provato, l'aveva cercato anche nei minuti iniziali ma ha trovato Secchi pronto, ma questa volta è un gol straordinario, 1-1 Oh boy, sta trattando la subito, attenzione per la palla però, in avanti per Pinna che viene trattenuto ma si gioca ancora per il vantaggio di Angelo, in area di rigore di Angelo, fermato dalla difesa del Guspini ancora occasione, ancora Bosa ora in questo momento è partito il secondo tempo il tornamento, il Castiadas con la Samatra Simini, sta perdendo in casa prima attenzione, poi c'è l'occasione, la rasoiata di Pinna alla ricerca del secondo gol, alla ricerca della doppietta in dettaglio del Cuspini con la grande girata di Cadeo che se ne va, poi serve il numero 17, è appena entrato, va a vincere, in area di rigore vinci, poi la palla è trattenuta da ancora poi il Curreli al sinistro, Carboni, calcio d'angolo occasione ora, perché sono i minuti di recupero questi Marco Carboni questa rasoiata e poi c'è Carboni ancora, Salvatore Carboni lo stava per fare stava per fare il 2-1 va da vincere ma non c'è più tempo, Fischia tre volte preso è finita, 1-1 il gol di Pinna nel primo tempo è di Curreli quindi il match è finito 1-1 2-1 1-1